Bene a tutti ragazzi, ben ritornati dal vostro giocatore Siamo arrivati signori dopo veramente tantissimo, ma tantissimo tempo Su un chest opening qui, su Clash Royale ragazzi Come starei vedendo ho acquistato 30.000 gemme ragazzuoli E sono pronto per fare questo chest opening Ragazzi perché sto facendo appunto questo chest opening? Perché tra probabilmente 15 ore più o meno Viene rilasciata una nuova carta Ed è il golem di ghiaccio ragazzi Ovviamente questo video ragazzuoli, vi dico subito Se riaggiunge i 40.000 like ragazzi È tantissimo, lo so, è tantissimo Ma se li riaggiunge ragazzi vi farò un altro chest opening Da 30.000 gemme appunto per trovare poi il golem di ghiaccio Ragazzi mi raccomando spolliciate perché non ce ne mancano tantissime Dobbiamo trovare ancora noi il boscaiolo, ancora dobbiamo trovare Quindi speriamo oggi di trovarlo Ragazzuoli, sto leggendo alcuni vostri commenti Per consigliarmi un deck appunto per arena leggendaria Mi raccomando scrivetimile anche qua sotto con scritto Deck per arena leggendaria jogger Mi scrivete tutte le 8 carte che mi volete mettere E che mi consigliate appunto da dover utilizzare Ovviamente poi chiederò anche consiglio Per quanto riguarda ciccio per un buon deck Da utilizzare per arena leggendaria E possiamo iniziare la prossima volta a spaccare i culi O almeno ci provo Ragazzi allora Iniziamo dubbito con un bel baule super magico Mi raccomando 40 mia like ragazzi lo so sono tantissimi Ma ci sarà un altro chest opening per trovare appunto le carte che ci mancano Valkyria E va bene Stregone Va bene Mega sgherro Va benissimo Un bel cannone Un'orda di scheletri E non ci dà la leggendaria mortacci tuoi Perché ci dà il cucciolo di drago Che non ci interessa Ma noi siamo qua ragazzi Siamo pronti Carichissimi Perché oggi troviamo il boscaiolo Che è la carta che ci manca Il boscaiolo oggi ci manca ragazzi Quindi per favore Gentilmente Vai carta epica Niente carta epica Guarda che bastarda Regà il golem Dai non mi dai 23 carte epiche così Ma dammi la leggendaria no Oro Moschettieri Mega sgherro Che lo potenziamo Il bombarolo Che è un miliardi di bombaroli Cucciolo di drago Attenzione principe nero E ci dà la scintilla Va bene Va bene Anche perché se riusciamo a potenziare La scintilla ragazzi E portare al livello 3 Penso che Spara il raggio esplode Però niente L'arena leggendaria esplode Completamente Quindi scintilla per noi Prima leggendaria Vai Rimangono 4 bauli ragazzi 4 bauli di questi qua Una leggendaria per noi Mega sgherro Buonissimo Già il pecca Troviamo Vaffancore Goblin Torre infernale Attenzione Attenzione E leggendaria minatore Va bene Grazie Ma io voglio il boscaiolo Pezzo di fango Ammuffito Che ci manca il boscaiolo Dai Forza e coraggio Forza e coraggio Oro Goblin Orda Sgherri Va bene Mega sgherro Non ci dare nulla Ok Adesso Epica Attenzione 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 Carta leggendaria Carta leggendaria Carta leggendaria Boscaiolo Boscaiolo No il tronco Sono tre carte leggendarie L'abbiamo tolata tutti Il tronco potenziato adesso A livello 2 E non abbiamo ancora Il boscaiolo Non abbiamo ancora il boscaiolo Comunque tre carte leggendari Per noi ragazzi Forza e coraggio Forza e coraggio Forza e coraggio Forza e coraggio Epica Non c'è andato l'epica Vaffan cuore Non vaffan cuore Vaffan cuore E no Non possiamo aprirci l'ultimo ragazzi A meno l'ultimo Ce lo dobbiamo aprire Vediamo un attimino Ok ragazzi Ho preso proprio le ultime gemme Per aprirci l'ultimo Baule Super magico ragazzi Dai Allora Ci manca solo il boscaiolo Per favore Per favore Sgherri Mini pecca Scarica va bene Ecco Già c'è andato l'epica Vaffan cuore E ciao Attenzione Ci potrebbe stare ragazzi Ci sta l'epica Eccola Cazzo Che c'è sta l'epica Che poi L'epica La leggendaria A noi è vero Non c'è andato Perché sono uscite appunto Tutte le carte E no è vero Ho detto proprio Una cazzata incredibile Quindi Niente per noi ragazzi Ci apriamo un baule gigante Ma si Apriamoci un baule gigante Giusto per terminare così One Two E tre Tobi Che porta a casa Una cagata assurda Ragazzi Allora In questo In questo C'è stopening Non è andato male Nel senso Comunque Le carte leggendarie Le abbiamo trovate Bello Il drago infernale Mi consigliate un deck Per arena leggendaria Con il drago infernale Ragazzi Perché lo voglio provare Assolutamente La scintilla L'abbiamo trovata Questo l'abbiamo trovato E abbiamo trovato Il tronco Il tronco Lo possiamo migliorare Assolutamente Lo portiamo A livello 2 Possiamo potersere Tantissima roba Possiamo potersere Molto Il mega sgherro Ragazzi Il mega sgherro So che è potentissimo Se è portato A un certo tipo Di livello Quindi Buonissimo Possiamo potersere Tanta roba Consigliandomi Un bel deck Con tutte queste carte Che io ho qui Disponibili Per fare Appunto Per andare qui In arena leggendaria A rompere il colosso A tutti Ci apriamo questi bauli Che sono quelli Omaggio Grazie mille Le è veramente Molto gentili Ci apriamo questo Che anche questo È un omaggio E ci mettiamo a sbloccare Questi qua Ragazzi Mi raccomando Un bel po' in su Perché questo Non ci possiamo lamentare Spero che questo video Vi sia piaciuto Mi raccomando 40.000 like Ragazzi Ci facciamo Il prossimo Cest opening Che domani uscirà Appunto Quando tornerò Dal games week Ragazzi Ci faremo un altro Cest opening Che appunto Per trovare Vedi A noi ci serve Proprio questa qua Vedi Eccola qua Il mortacci Sua Il boscaiolo Di merda Non abbiamo trovato Quindi La prossima volta 40.000 like Per trovare Boscaiolo E per trovare Il golem Di ghiaccio E poi qua Disponibili A breve Prossimamente Mi raccomando Ragazzi Un bel like Scrivetevi A questo sotto Il deck Commentate Condividete Tutti i social In descrizione Instagram Pagina Facebook Lo shop online Dovevi prendere Le mie magliette Dazze Portagliavi Al prossimo Appointamento Ciao signori